Io sono un operatore umanitario, quindi non ho questa visione, oltre che essere un padre, per cui la domanda è importantissima, ma io credo che quello che cercherò di fare con mia figlia e quindi con le persone giovani è cercare di fargli credere nei valori fondanti della società, che sono la democrazia e il rispetto ai diritti umani, cercare di capire che la guerra è la stupidità più grande che esiste e di lottare per queste cose qua, come stiamo cercando di fare in tanti, con tanti limiti. Io mi ricordo una volta a una conferenza hanno fatto una domanda bellissima dei giovani, tra l'altro l'hanno fatta, per cui la riprendo, alla nipote di Gandhi che si occupa della gestione di un centro per le donne, chiaramente vulnerabili, e gli hanno detto come faceva ad andare avanti nonostante tutti quei problemi, tutte le sofferenze che ogni giorno vedeva e tutte le problematiche che possono comportare situazioni del genere. E lei ha detto una cosa che io cerco di tenermela sempre con me, lei ha detto finché io avrò la forza di risvegliarmi ogni giorno e continuare a fare il lavoro che faccio, nonostante la sera magari non ne possa più, o insomma sono presa da pensieri negativi, io continuerò a farlo. Credo che questa sia una ricetta che io mi tengo e che giro anche a chi è più giovane di me e penso che sia questo un valore importante della vita, continuare a credere ogni giorno, a fare con senso di responsabilità quello che vogliamo fare nella vita, nel nostro piccolo mondo, nel nostro pezzettino di lavoro, di studio, prendersi le responsabilità, andare avanti e farlo al meglio.